Fano torna ad essere capitale internazionale dell'olio extravergine d'oliva. Sabato 21, domenica 22 maggio, torna il Gran Galà dell'olio, l'olio d'Italia del Mediterraneo 2022, uno tra i più importanti eventi nazionali di settore dedicato all'olio. Sabato 21, alla Pinacoteca San Domenico, le premiazioni. Domenica 22 maggio, al Pincio, dalle 10, Expolea, il salotto dell'olio, Mostra Mercato con la migliore produzione olearia d'Italia e del Mediterraneo.